La regione toscana riapre uno spiraglio per l'indennizio ai balneari. Dopo la doccia fredda da Roma, con il decreto legge del governo Meloni, che nell'accordo con Bruxelles ha limitato l'indennizio a concessionari uscenti ai soli investimenti fatti negli ultimi cinque anni, l'ultima mossa di Firenze prova ad estendere risarcimento economici al cosiddetto valore reddituale. La novità è contenuta nelle nuove linee guida, approvate ieri dalla Giunta Gianni, che aggiornano la legge del 2016 sui cosiddetti atti formali, ovvero quelle procedure selettive pubbliche che hanno consentito in questi ultimi anni il rilascio di nuove concessioni fine a vent'anni a fronte di investimenti. In pratica, chi perde lo stabilimento balneare all'asta verrebbe indennizzato dal concessionario subentrante sulla base del valore reddituale dell'azienda, un particolare del tutto rilevante, specie per i bagni della Versilia, che valgono sul mercato e fatturano milioni di euro. Con le regole attualmente previste dal governo, invece, la quasi totalità dei balneari rimarrebbe a bocca asciutta dal momento che negli ultimi cinque anni, fra Covid e incertezza legata proprio alla Bolkestein, gli investimenti fatti sono stati pari a zero. La legge regionale, nelle intenzioni del governatore Gianni, dà ai comuni delle indicazioni su come impostare i bandi, colmando un vuoto lasciato tuttora dalla legge nazionale, quella che è steso le concessioni al 2027, che prima di entrare in vigore deve comunque essere convertita in decreto ministeriale entro il prossimo 31 marzo. Un arco di tempo nel quale, in un caos normativo del genere, può succedere ancora davvero di tutto.